Il 20 novembre 2020, la data della Convenzione ONU sui diritti delle bambine e dei bambini di tutto il mondo, fatta nel 1989. Ogni 20 novembre bisogna ricordare a tutti gli adulti, dai genitori ai presidenti delle nazioni, che questi diritti sono importantissimi. I diritti sono dei bisogni di tutte le persone a cui non è possibile rinunciare. Il 20 novembre è la festa dei diritti dei bambini di tutto il mondo, di tutto tutto. Il 2020 è un anno un po' malattuccio, ci sta lasciando tutti a casa e non possiamo fare tanti giochi all'aperto con gli amici. Per questo motivo abbiamo pensato di inventare un treno dei diritti di tutte le bambine e di tutti i bambini del mondo. Un treno speciale, fantastico, fantasmagorico. La prima locomotiva sarà quella che tirerà tutti gli altri vagoni. Ogni settimana aggiungiamo un diritto vagone alla locomotiva. Forza, vi aspettiamo! Tutti i bambini possono partecipare a questo gioco inventando qualcosa da inviarci. E Salta Banco lo farà diventare un passeggero del vagone giusto. E Salta Banco lo farà diventare un po' malattuccio. Grazie.